E' sempre un'emozione che tocca il cuore vederla sul palco, così intensa, viva, passionale e coinvolgente, che attura l'attenzione dello spettatore per trasportarlo in una delle tragedie più crudeli che la letteratura ci ha regalato. Federica Bisegna non delude, anzi infiamma il cuore del pubblico presente che l'ha seguita in un capolavoro di emozioni. Diretta magistralmente da Vittorio Bonaccorso, la Bisegna ha appassionato la fitta platea del parco archeologico di Caocana che l'ha applaudita in Storia di Medea, uno spettacolo che aveva già suscitato ampi apprezzamenti l'estate scorsa al Castorio Donna Fugata e in inverno al Tatro Quasimodo di Ragusa, e che anche in questa occasione si è confermata essere una delle migliori e più intense espressioni della bravura e passioni della compagnia tutta. Sul palco, insieme alla Bisegna, anche Tiziana Bellassai, che spesso collabora con gli attori ragusani, che ha interpretato Nutrice ed è ancora Vittorio Bonaccorso nel ruolo di Giosone. Il pubblico si è lasciato accompagnare nella difficile e straziante storia di Medea, una donna logorata internamente che alla fine sceglie la strada più dura, ma per lei unica. Passione, vendetta, tragedia, storia di Medea è dolorosa, drammatica, triste e commovente, una replica che lascia in bocca il gusto e il desiderio di una prossima messa in scena. La compagnia Godot, da adesso, dà appuntamento al 18, 19 e 20 agosto al parco del castello di una fugata con la favola del figlio cambiato, con prologo ed epilogo da I giganti della montagna, all'interno della mini rassegna, palchi diversi e stata al castello.